Venite a trovarci nel nostro showroom. Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto. Nell'ultima sua trasferta della stagione, la Cavese ha fatto cinquina in casa del Manfredonia, 5-1 il risultato finale, anche se al primo posto nel girone H della Serie D giunge il Potenza, che sul proprio campo ha battuto il Taranto ed è promosso matematicamente in C. I metelliani hanno fatto quanto richiesto dal loro allenatore, hanno fatto rispettare la legge del più forte, sebbene i manfredoniani, già rassegnati alla retrocessione, avessero fatto pensare a una sorpresa proprio nel segmento iniziale della gara. Era fondamentale fare punti per la Cavese, che di fatti ha prodotto le sue solite giocate, ha colto l'intera posta in palio ed è così arrivata a 75 punti, con probabilità di chiudere a 78 domenica prossima e quindi di partire ai play-off con un biglietto da visita eccellente. I sipontini a loro volta sperano in un rilancio dopo la grave retrocessione in eccellenza e i problemi societari del loro club. Invece i bianco-blu vogliono provare ad andare in Serie C. Manfredonia e Cavese sono schierate entrambe con il 4-3-3. Mister Leonardo Bitetto, che tornava da ex per la prima volta, opta per massimo dal primo minuto al posto di De Rosa rispetto alla gara di Gragnano. Nel Manfredonia gioca tra i pali Gelsomino al posto dello squalificato Grasso. L'arbitro è il signor Di Marco di Ciampino. Passano poco meno di 25 secondi e i metelliani sono già in vantaggio. Il cross è di Oggiano, la conclusione vincente è di Fella e gli avversari non hanno neanche toccato la palla. Il Manfredonia risponde con l'intraprendenza dei suoi centrocampisti, in particolare Stoppiello e Russo, e proprio dal piede di Russo parte l'azione che determina il gol del pareggio di Laporta, smarcato centralmente come possiamo vedere. Sono trascorsi sette minuti dall'inizio della gara. Ancora tre giri di lancette più tardi, la formazione metelliana ripassa in vantaggio. Calcio di punizione battuto astutamente sul secondo palo da Oggiano, che manda in rete il pallone del 2-1. Il terzo gol della Cavese al diciottesimo, Martiniello offre un bel pallone a Giuseppe Fella, che va dentro e tira. Traversa interna, la palla rimbalza via e il guardaline e Pavone di Sesto San Giovanni dà il gol e Fella, lo vedete dal gesto, festeggia così la sua prossima paternità. Qualche rischio, sul 3-1 la Cavese lo prende. Ci pensa Logoluso ad anticipare Gallo in area metelliana, ma al trentottesimo è Martiniello in girata a trafiggere per la quarta volta Gelsomino. Si va al riposo sul 4-1. Nella ripresa sono più frequenti i palleggi della Cavese, che riesce a rintuzzare gli attacchi del Manfredonia, che aveva sostituito Gallo con Genchi, e al 62esimo i Biancoblu realizzano il loro quinto gol al termine di una buona azione impostata da Martiniello. Il tiro finale è di massimo. Traversa interna e, a giudizio del secondo assistente Biancucci di Pescara, la palla è passata oltre la linea di porta. 5-1. Vitetto dà minuti al difensore Santeramo al suo debutto dopo mesi di stop e di riabilitazione conseguenti all'infortunio al ginocchio di Agosto, e si concede qualche esperimento come quello di Lamme terzino destro e quello di Mincione alla sinistra. Oggiano va al tiro al 73esimo trovando pronto Gelsomino. Nell'azione proprio successiva anche il Manfredonia prova in avanti con una conclusione di Rinaldi bloccata da Blanchard. Ma i Biancoblu hanno tempo per tentare anche altre soluzioni offensive, come il tiro di Massimo e quello del nuovo entrato Tripoli, entrambi fuori bersaglio. Si finisce 5-1 per la Cavese, che si carica così in vista dell'ultima giornata di campionato prevista per domenica prossima con la frattese a Lamberti. Ma la prospettiva sarà la semifinale dei play-off, prevista domenica 13 maggio con il Cerignola.